Come di consueto nella giornata successiva a un trailer rivelato ci ritroviamo qui con questo appuntamento per analizzare attentamente tutti i Pokémon che sono stati rivelati e formulare alcune teorie su vari aspetti quindi direi di iniziare subito senza perderci in ulteriori chiacchiere che ne faccio sempre troppe prima dei video Il primo Pokémon di cui parleremo è Crow Brawler, il Pokémon Pugile Questo Pokémon è abbastanza curioso infatti è ispirato come si era perfettamente capito a un granchio pugile è un Pokémon che detesta perdere e che cerca di elevarsi al di sopra dei suoi nemici sia in senso figurato ossia superarli in bravura o in una battaglia che in senso letterale non sopporta guardare le persone dal basso verso l'alto e infatti lo si può trovare attaccato a oggetti alti o a persone alte Se si cerca però di farlo scendere ci si becca un cazzotto in faccia che con quei guantoni lì non deve essere molto piacevole Ma comunque, nonostante la dieta di un pugile dovrebbe essere molto asciutta e molto ristretta questo Pokémon è molto ghiotto di bacche, infatti prende a pugni gli alberi per farle cadere Se attorno a un albero dovessero esserci più di questi Pokémon, in sostanza dovessero esserci un branco di Crow Brawler Ci sarà una battaglia incredibile per chi riuscirà a buttare giù più bacche e chi vincerà si mangerà tutto Praticamente è un po' come, non lo so, la Royal Battle, una roba del genere Questo Pokémon nel suo stile di battaglia ricorda appunto un pugile Infatti avanza verso il nemico cautamente proteggendosi con i guantoni E arrivando appresso al nemico inizierà ad attaccare con questi pugni potentissimi Che appunto come abbiamo visto prima possono tranquillamente buttare giù un albero Ogni tanto però mentre combatte succede che gli si staccano le chiele Che a quanto pare sono davvero buone per la popolazione di Alola Da mangiare si intende E praticamente questo Pokémon è la rappresentazione vivente del detto restare con le mani in mano Già Vabbè comunque nonostante questo granchio pugile sia appunto un pugile Non è poi così alto Infatti è alto solo 0,6 metri e pesa 7 kg Quindi a giudicare da questi dati si evolverà quasi sicuramente secondo me Come abilità presenta ipertaglio e ferropugno Ferropugno sarà quella più interessante perché verosimilmente questo Pokémon conoscerà Gelo pugno, tuono pugno, pugno rapido, fuoco pugno, zuffa E quindi ferropugno potenziando queste mose potrebbe essere molto interessante per il competitivo E passiamo adesso a Sandygast Ora Signori miei Io questo Pokémon continuo a non apprezzarlo dal punto di vista estetico Ma ragazzi il concept Io sono molto combattuto in questo momento Perché è un concept stupendo, una storia bellissima Però non mi piace molto come Pokémon Ma comunque Pokémon di tipo spettro terra Alto 0,5 metri ma pesante ben 70 kg Un Pokémon che si forma grazie al rancore che viene praticamente immesso nella sabbia È un Pokémon fatto di sabbia intriso dal rancore di altri Pokémon esseri viventi Un concetto abbastanza simile a quello di Binet Ma proseguiamo perché Attenzione sentite qua cosa succede Qualsiasi persona afferra la sua paletta Subirà una sorta di controllo Verrà presa sotto il controllo di questo Pokémon Che utilizzerà questo suo potere per accrescere la sua forma Costringendo per lo più bambini a portare sabbia nei pressi di se stesso Per così aumentare il suo volume In ogni caso se questo Pokémon dovesse perdere la sua beniamata paletta Non si darà pace E comincerà a vagare in giro alla sua ricerca Utilizzando al posto della paletta un'altra cosa come un ramo d'albero O una bandiera o qualsiasi altro oggetto di forma diciamo Diciamo allungata ecco sì In ogni caso questa non è l'unica peculiarità di questo Pokémon Infatti è in grado di assorbire l'energia vitale di qualsiasi essere vivente Attraverso la bocca che forma quel tunnel che vediamo Ad Alola a quanto pare inserire questa mano nella sua bocca È una sorta di prova di coraggio Praticamente è la bocca della verità dei Pokémon In ogni caso la cosa ancora più interessante di questo Pokémon Che di cose interessanti ne è tantissime È l'abilità Hydro Reinforzo Ne abbiamo già parlato Un'abilità che aumenta la difesa di due gradi Quando questo Pokémon viene colpito da una mossa di tipo acqua Ripeto una mossa interessante perché immaginatevi ad esempio A fare gli switch con questo Pokémon Hai un Pokémon di fuoco in campo L'avversario ti usa una mossa di acqua Tu switchi su questo coso qua E questo coso qua basta Diventa un tank impressionante Una cosa assurda E potrebbe essere davvero interessante per un competitive Ma passiamo subito a Palosand L'evoluzione Evoluzione che è un po' più alta È alta un metro e tre E pesa 250 kg È una roba impressionante In ogni caso questo Pokémon qua A differenza del suo predecessore È in grado di controllare persone adulte E costringe queste persone a creare un castello In modo tale che si possa mimetizzare E aumentare appunto la sua forza difensiva Grazie tra l'altro alla sua abilità A differenza del Pokémon precedente Questo Pokémon qua se perde un po' di sabbia Non ha bisogno di richiamare bambini per rimetterla assieme Ma è in grado di procurarsela da solo Quando però va in cerca di particolari prede La paletta che si trova sulla testa Assume una funzione diversa Infatti a quanto pare inizia a ruotare Come se fosse un radar Ora piccola teoria Questo Pokémon ci è stato detto Almeno nella forma precedente Che accumula sabbia Per creare questo È un modo per farci capire Che questo Pokémon assume Un'evoluzione quasi Di tipo naturale Cioè un'evoluzione molto più simile Non sembra quasi un'evoluzione Questa Cioè so che è un'evoluzione Però da come ce la raccontano Sembra che questo qua Sia il Pokémon precedente A cui è stata aggiunta la sabbia E potrebbe essere qualcosa di carino Perché metti caso Che questo Pokémon qua si evolve Dandogli come strumento Per dire la sabbia soffice Sarebbe una cosa carina Anche perché la sabbia soffice Non la usa nessuno Ma comunque un altro strumento ipotetico Che lo possa evolvere Una pietra Qualcosa del genere Forse non ha un'evoluzione Solo tramite livello Ma piuttosto Appunto gli si deve assegnare Uno strumento O qualcosa del genere Sarebbe una cosa interessante Da vedere effettivamente Ed infine andiamo a parlare Di Stuful Il Pokémon bizzoso Che non so neanche cosa voglio dire In italiano Alto 0,5 metri E pesante 6,8 kg Abilità morbidone Di cui non sappiamo ancora L'utilità E impaccio Ci ne ha detto che questo Pokémon È adorato da tutti Dato che è molto grazioso Anche se a me fa cagare Come al resto della community Quindi dubito Che qualcuno adori seriamente Questo Pokémon Ed è un Pokémon Che a quanto pare Fa dei movimenti Assai buffi Però Nonostante sia piccolo Ci ne ha detto Che è un Pokémon Che nasconde in sé Una forza davvero straordinaria Infatti Se questo Pokémon Dovesse cogliervi Per dire impreparati Potrebbe tranquillamente Mandarvi KO Con uno dei suoi colpi Veramente potenti Sì su questo Pokémon C'era poco da dire Effettivamente E nulla Mi fa schifo Non lo apprezzo per nulla Tipo normale lotta Un tipo che si era Già visto Penso Un normale lotta Da qualche parte Ora non ricordo E nulla Le news Finiscono qua Sì le descrizioni Erano abbastanza Sintetiche Soprattutto per due Dei Pokémon Gli ultimi due Che abbiamo trattato Fatemi sapere Cosa ne pensate Se il video vi è piaciuto Lasciate un bel mi piace Commentate E iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto Mi raccomando I social in descrizione Per rimanere sempre Aggiornati E noi ci becchiamo In un prossimo Video Aggiornati